Come è vista la crescita del movimento anche dopo gli ultimi mondiali dell'Associazione Italiana Calciatori e una battuta finale togliendosi le vesti da presidente, com'è venire a trovare l'Ella Sferona? La crescita l'abbiamo stimolata, l'abbiamo auspicata e la stiamo cercando di sostenere perché c'è e ci sarà. Al di là del mondiale, già precedenti edizioni del mondiale, da quelli di Germania a quelli in Canada, hanno fatto vedere un mondo che è solo crescita e che per noi in Italia, sicuramente partendo da un livello molto basso di attenzione, di investimenti, può solo che cresci in maniera esponenziale e questo non fa che farci piacere, anche perché grazie all'ingresso di squadre professionistiche nell'attività è aumentata il livello della qualità dell'offerta per le ragazze. L'ingresso anche dell'Ellas, ovviamente, trascina la mia parte di tifoso in questa vicinanza e poi è sempre un'emozione vedere lo scudetto dell'Ellas e quindi al di là delle vesti che poi devo ricoprire Super Partes l'auspicio un po' più forte che questa squadra possa far bene. Katia Serra, responsabile per quanto riguarda il calcio femminile per l'Associazione Italiana Calciatori, state facendo il giro delle squadre della Serie A femminile. Che auspicio avete voi per la prossima stagione sportiva a livello di Serie A femminile? Come state vivendo questa crescita? Io ho cognato lo slogan, inizierà il campionato più bello di sempre, perché sono convinta che siamo reddici da una stagione che ha dimostrato che il calcio in Italia è in crescita ma credo che il campionato che si appresta ad iniziare dimostrerà un ulteriore livello. Credo che sarà molto competitivo, ho visto che sul mercato le squadre si sono mosse bene per migliorarsi e pertanto mi aspetto che la qualità che abbiamo visto l'anno scorso sia incrementata anche perché le ragazze che hanno partecipato al mondiale hanno accumulato ulteriore esperienza che sarà di traino non solo per loro stesse ma anche per quelle più giovani che allenandosi tutti i giorni con queste compagne importanti possono accumulare segreti, dettagli e capire che il percorso di crescita è un percorso che hanno la fortuna magari di viverlo in casa con le proprie colleghe. Faccio una domanda complicata, voi che avete vissuto il calcio femminile prima di questo periodo di grande crescita è più il ramarico di non poter giocare in questo momento o il senso di responsabilità di trasmettere un certo sistema valoriale alle ragazze di oggi? Mi ha messo in difficoltà nel senso che sono due aspetti assolutamente imprescindibili nel senso che il ramarico è grande, io scherzo sempre e dico che oggi vorrei avere dieci anni ed essere una bimba che si appresta a vivere il calcio perché per me è una passione infinita e sono contenta di tutto quello che ho fatto ma è chiaro che non ho vissuto le opportunità che ci sono oggi quindi un po' mi dispiace però al tempo stesso come dicevi anche l'aspetto della responsabilità e della trasmissione a quelle più giovani di quello che è il calcio giocato dalle ragazze, quelli che sono i suoi valori quello che deve rimanere il nostro bollino di qualità per me è fondamentale e anche nel mio ruolo dentro l'asso calciatore le ragazze lo sanno, io insomma batto un po' il chiodo su questo aspetto perché non dobbiamo assolutamente perdere chi siamo, da dove siamo partiti e qual è la nostra dimensione perché comunque giochiamo a calcio con caratteristiche diverse e in primis la determinazione, il sacrificio e la passione ci devono contraddistingue sempre anche tra cent'anni quando magari il calcio femminile raggiungerà livelli ancora migliori degli attuali Una battuta finale sul Verona? Beh l'Elas mi intriga tanto, devo dire che secondo me ha migliorato notevolmente la qualità della squadra rispetto all'ultima stagione pertanto la vedo competitiva e sono anche curiosa di vederla all'opera proprio perché quando una squadra ti stimola poi è il campo però che deve parlare pertanto non vedo l'ora di vederla giocare